Chiariamolo subito perché mi sento di aver fatto un po' di clickbait, questo sarà come sempre un video di fisica, isolamento si intende quello termico. Se sei entrato o entrata aspettandoti un video riflessivo, introspettivo, non è questo il caso. Puoi chiudere il video, ma ti chiedo personalmente di non farlo perché, credimi, l'argomento di oggi è davvero una ficata. Quindi, solita domanda di rito, ti invito a rispondere chiaramente, ma questa volta è un po' più difficile del solito. Ho un tubo in cui scorre acqua calda, diciamo pure bollente, il mio obiettivo è isolarlo termicamente al meglio delle mie possibilità. Per farlo, quindi, lo ricopro con un materiale isolante. Il materiale è irrilevante, scegli quello che preferisci. Quanto ne devo mettere per isolare al massimo? Cioè, quanto deve essere spesso lo strato di isolante per far sì che l'isolamento sia il migliore che io possa fare? Io di primo acchito avrei detto, più ne metto meglio è, più lo strato esterno è spesso, meglio isolerà. Poi, certo, con un andamento decrescente, per cui più continuo ad aggiungere strati di isolante, più l'ultimo strato che ho aggiunto avrà un impatto minore sull'isolamento totale. In pratica mi immaginavo un andamento asintotico, quindi più ci avviciniamo al limite che tendiamo a raggiungere, più i passi che facciamo per avvicinarci diventano piccoli. Un po' come il paradosso della tartaruga e di Achille. Non mi ricordo più chi o quando, ma... Un greco... la palizia, un greco... ma... proprio... della Grecia, proprio. Dice che in una gara di corsa tra Achille notoriamente pieveloce e una tartaruga, diciamo notoriamente non pieveloce, basterebbe far partire la tartaruga un passo avanti e questa vincerebbe la gara. Questo perché Achille non avrebbe mai potuto raggiungere la tartaruga, visto che nel tempo che Achille avrebbe impiegato per raggiungerla, per colmare quel passo di vantaggio, la tartaruga a sua volta avrebbe fatto un passettino in avanti e così via all'infinito a costruire uno dei ragionamenti fallaci più famosi della storia. Ecco, questo è un andamento assintotico e io mi aspettavo un andamento di questo tipo, ma colpo di scena? Io mi sbagliavo. Ma guarda, mi voglio rovinare, semplifico la domanda. È vero che più spesso sarà lo strato di isolante e migliore sarà l'isolamento termico? Vabbè, anche da come ho posto la domanda direi che la risposta è evidentemente no, ma finché non spieghi è come se hai vinto una partita semplificata a carta forbice sasso. Cioè hai tirato a caso al massimo con un po' di doppio ragionamento su un potenziale distrattore, ma hai vinto ad un gioco che aveva comunque il 50% di chance di vittoria, più facile che vincere al colore alla roulette. Prossimo video sulla statistica della roulette? Non è una domanda, è già in pipeline, volevo solo anticipartelo. Quindi, tornando a noi, non è vero che uno strato più spesso di isolante isoli sempre e per forza meglio di uno strato più sottile. Strano però, eh? Vediamo perché. Concettualmente, certo, è controintuitivo, ma tutto sommato è piuttosto semplice. Matematicamente... Ma tanto lo diceva anche Stephen Hawking. La scienza moderna è diventata così tecnica che solo un numero piccolissimo di specialisti è in grado di padroneggiare la matematica usata per descriverla. Le idee fondamentali sulla origine e la franza dell'universo possono però essere espresse senza bisogno di fare il corso alla matematica. Ecco, noi questa speranza la applichiamo un po' ovunque e in questo caso anche all'isolamento dei tubi. Concetto preliminare. Isolare termicamente qualcosa significa fare in modo che il calore scambiato da questo qualcosa con l'ambiente sia il minore possibile. E per farlo si mettono delle barriere, questo è abbastanza intuitivo. A questo punto il corpo isolato conduce comunque del calore attraverso la barriera andando verso l'ambiente, ma se abbiamo fatto un buon lavoro, lo fa meno. E come varia il calore che passa attraverso la barriera? Varia in funzione di alcune grandezze, tra cui la differenza di temperatura tra corpo e ambiente e la capacità termica del materiale. Ce ne sono altre due però di grandezze e sono quelle che ci interessano di più. Parlo della superficie attraverso cui passa il calore e dello spessore della barriera in questione. Ora, piuttosto ovvio, più è grande la superficie attraverso cui il calore può passare e maggiore sarà il calore scambiato. Al contrario, più è spessa la barriera che abbiamo messo come isolante e minore sarà il calore scambiato. Piccolo appunto per dopo, questo significa che se la superficie aumenta, aumenta il calore, se lo spessore aumenta, diminuisce il calore. I rapporti di proporzionalità sono uno diretto e uno inverso e questo significa che un termine è a numeratore e un termine è a denominatore. Questo ci servirà dopo. Ora, avrai pensato a un caso piatto che è il caso più comodo, per esempio una casa che viene isolata, guarda un po', con un muro. Lì però il caso è facile perché la superficie non varia, quindi a parità di tutte le altre condizioni un muro più spesso isola meglio. Certo, certo, con tutti i ragionamenti di andamento assintotico che abbiamo fatto prima. Se però prendiamo il caso di un cavo, l'isolante deve circondare il cavo, quindi se lo inspessiamo aumenta lo spessore dell'isolante, ma aumenta anche la superficie esterna del cavo, quindi quella a contatto con l'ambiente. Questo comporta che ho due effetti in controtendenza. Un maggior spessore migliora l'isolamento, una maggiore superficie peggiora l'isolamento. È abbastanza evidente che questi due effetti prima o poi si pareggeranno e avremo il cosiddetto break-even, cioè quella situazione in cui l'isolamento è al suo massimo. Ovvio, fino al break-even un inspessimento della parete isolante comporterà un maggior isolamento, oltre al break-even un'aggiunta di ulteriore spessore comporterà un peggior isolamento. E questa era la spiegazione concettuale. Per chi vuole adesso facciamo come dice Matt Damon. Right, let's do the math. Nel caso di muro piatto la formula è piuttosto banale. Il calore scambiato tramite conduzione è dato dalla conducibilità termica e del materiale, dalla temperatura esterna e interna, dalla superficie attraverso cui viene scambiato il calore, e quindi qui per essere precisi dovremmo dire la superficie normale alla direzione di scambio termico. E infine dipende, e meno male, dal fantomatico spessore della nostra barriera. Parto da questo caso perché è più semplice ed è il punto di partenza che abbiamo avuto anche prima. I razionali di questa formula sono proprio quello che stavo raccontando poco fa. E poi mi serve darti questa formula. Che prende il nome dall'ottimo furiero? Tra l'altro. Il caso che ci interessa però è un po' più complesso. Te lo dico, dovremmo usare gli integrali ma solo per un minuto neanche, non te ne accorgerai neanche. Nel caso di un tubo infatti dobbiamo integrare questa formula su un sistema di riferimento radiale, quindi la integriamo rispetto al raggio in pratica. Quindi separiamo le componenti e integriamo Q fratto A rispetto al raggio e K rispetto alla temperatura. Occhio che entrambi gli integrali sono definiti. A sinistra stiamo integrando lo spessore dell'isolante, quindi tra raggio esterno e raggio interno, mentre a destra integriamo la differenza di temperatura, sempre ovviamente tra esterno e interno. A destra non ci perdo neanche tempo perché è l'integrale di una costante. A sinistra è comunque piuttosto facile ma un po' più nascosto. E infatti qui la variabile è ficcata nella formula dell'area che sappiamo essere lunghezza per 2πr. Ecco, quella r è proprio la nostra variabile di integrazione. Risolviamo anche qui dai super basic. Abbiamo che il calore è definito come lunghezza per 2π, per capacità termica, per differenza di temperatura, il tutto fratto il logaritmo naturale del rapporto dei raggi. Metti in pausa per goderti tutti i passaggi. Ora, ci stiamo avvicinando alla soluzione. Abbiamo la formula che definisce il calore in funzione dello spessore dell'isolante. Lo ricordo solo per sicurezza, quel raggio esterno che compare è proprio la somma di raggio interno e spessore dell'isolante. Ci manca solo il calore dissipato per convezione dallo strato più superficiale, quindi esterno, dell'isolante. La struttura della formula è molto simile. H è la costante relativa allo scambio termico per convezione. A è la superficie esterna del cavo isolato. E le temperature che compongono quel ΔT sono quella ambientale, diciamo quella dell'aria, e quella della superficie esterna del tubo. Ok, è abbastanza evidente che il calore totale è dato dalla somma di questi due calori, quello per conduzione e quello per convezione. Le due formule però hanno lo spessore, che è la variabile che ci interessa, in punti diversi, uno a numeratore e uno a denominatore. Guarda un po' proprio quello che dicevo prima. I rapporti di proporzionalità sono uno diretto e uno inverso, e questo significa che un termine è a numeratore e un termine è a denominatore. Quindi ci sarà un set di valori S per cui il calore aumenterà, e un set di valori sempre per S per cui il calore diminuirà. Quello che ci interessa, o perlomeno interessa a me, però se stai guardando fino adesso interessa anche a te, è proprio l'inversione dell'andamento. Cominciamo a semplificare questa formula togliendo tutto quello che non è variabile, quindi tutto quello che di fatto è una costante, sostituiamolo con una generica N, M e così via. Per il calore di conduzione abbiamo che tutto il numeratore è il prodotto di costanti. Anche sul ΔT non sappiamo i numeri, certo, ma sappiamo che sicuramente il valore di T interno sarà maggiore del T esterno, visto che l'idea di fondo era isolare un tubo di acqua bollente. Questo solo per dire che anche ΔT sarà un numero positivo, quindi sostituiamo tutto il numeratore con un generico N. A denominatore abbiamo S, che è la nostra variabile, e R, che certo è una costante ma è da sola, non è che abbia molto senso sostituirla con un'altra lettera. Per adesso lasciamo R. Andiamo sulla convezione, anche qui tutto quello che non è R-S è una costante, vale lo stesso ragionamento sul ΔT che abbiamo appena fatto, sostituiamo tutto con una generica M. Ora, potremmo metterci a fare lo studio di funzione di sta roba qua, ma obiettivamente c'è un metodo molto più veloce e molto più facile. Se fai le superiori o un'università STEM di qualche tipo, lo conosci già. Si chiama WolframAlpha. Prima di lanciarci dentro la formula, però, semplifichiamola ancora un attimino. Seguimi attentamente. Le costanti che abbiamo lasciato dentro, N, M e R, possono assumere il valore che vogliono, a noi non interessa. Quindi, se noi ci assicuriamo che dandogli il numero 1 non si sputtana niente, aka significa controllare le condizioni di esistenza, possiamo dire che queste costanti valgono 1. Quindi la formula, nella sua digi-evoluzione finale, assume un aspetto molto più piacevole. Q uguale 1 su logaritmo naturale di 1 più S, il tutto più S. A WolframAlpha diremo che Q si chiama Y e S si chiama X. È fatta così, le piacciono X e Y. Noi lo sappiamo, non ci cambia nulla. E guarda un po' il grafico che ci c'è fuori. Lo vedi quell'andamento? Ah vabbè, ignora tutta la parte a sinistra dello 0. Intanto sono valori matematicamente validi, certo, ma fisicamente da escludere, perché, ricordiamo, la X è lo spessore dell'isolante, quindi cosa fai? E metti uno spessore negativo, non ha senso. Concentrati solo sulla parte destra, valori positivi di X. Il valore di Y è il calore totale dissipato, quindi per uno spessore di isolante che tende a 0, il calore dissipato va infinito. Nella realtà, ovvio, non è così, non esiste che il calore vada infinito, ma qui stiamo valutando solo l'andamento del calore, ovviamente, in funzione dell'isolante, quindi è corretto che senza isolante il calore dissipato vada al massimo. Aumentando con lo spessore dell'isolante, il calore dissipato diminuisce, prima molto rapidamente, certo, è il motivo per cui si isola con strati di materiale relativamente piccoli. Poi progressivamente la curva si abbassa, il che significa che aggiungere l'altro isolante ha sempre meno effetto. Fino a quando, a un certo punto, troviamo esattamente quello che stavamo cercando, cioè l'inversione di tendenza. La pendenza della curva torna ad essere positiva, il che significa che oltre quella soglia, di nuovo, valore di break-even, un'aggiunta di ulteriore isolante peggiora l'isolamento del tubo. Peggiora, capisci? Non è che è ininfluente, è proprio peggiora l'isolamento del tubo. Non guardare i numeri, perché, lo ribadisco, non hanno senso. Noi stiamo lavorando sul concetto, quindi sull'andamento del calore in funzione dello spessore e della dimostrazione di quello che stavo sostenendo. Quindi, oltre a una certa soglia, l'aggiunta di ulteriore materiale isolante peggiora l'isolamento complessivo. Questa roba qua non è una figata fotonica. E non posso non ringraziare mio zio per questo meraviglioso spunto. Ogni tanto, quando ci vediamo, parliamo di questo genere di cazzate. L'ultima volta che ci t'han visti, mi ha lanciato completamente a caso questo spunto e mi è scoppiato il cervello, non potevo non farci un video. In ogni caso, lui ha un sito, un blog, da un sacco di anni. Tra l'altro, fa anche molte più visite di quante le faccia questo video, però ci tengo comunque a consigliarlo, perché a tratti fa spaccare. Un mini post, diciamo, registrato. Non ho mai fatto latino, non so come si dice. Tra l'altro, i latini, che cosa se ne... Non esisterà una parola per indicare registrato, perché quando mai... Beh, no, però, registrato significa anche messo in un registro. Fammi controllare. Si dice recordum. Non lo so declinare, non mi romprico. Quindi post recordum. Spesso durante questo video ho utilizzato potenza termica e calore in modo un po' intercambiabile. Non è proprio corretto, ma non facciamo i pignolazzi, dai.